Bene, benvenuti e benvenuti a tutti. Questo è il primo dei quattro incontri di introduzione a Women in Comics, la mostra organizzata da Arfa in collaborazione con l'Ambasciata Americana e con Comic-Con di Napoli, che porterà in Italia una rassegna di artiste americane strepitose e che non vediamo l'ora di ammirare a Palazzo Merulana il primo giugno. Per accompagnare la mostra abbiamo deciso di affrontare alcune tematiche legate al fumetto e al femminismo e oggi è il primo incontro in cui appunto andremo a, nello specifico, a vedere come il tema del femminile, dei femminismi, perché non esiste solo un modo di intendere questo magnifico movimento, si è declinato nel fumetto. Lo faremo con delle ospiti molto speciali, parlo al plurale perché parlo al nome anche dell'alta curatrice Rita Petruccioli, molto felici di avere qui oggi e in particolare parlo di Trina Robbins e di Silvia Ziliche. Entrambi è come fiste dall'impatto importantissimo nella storia del fumetto e nella storia dell'arte internazionale e ve le vado a presentare. Vi ricordo anche che la moderazione ospite sarà cura di Susanna Raule, che è una scrittrice, una psicologa e un'attivista che di recente, negli ultimi mesi, si è dedicata a un progetto Moleste che è un progetto per la parità di genere nel fumetto in Italia. Ma torniamo alle nostre ospiti che ho il piacere di presentarvi. Trina Robbins è un personaggio importantissimo nella storia del fumetto americano e con la sua attività dagli anni 70 in poi nel mondo del fumetto underground ha promosso, sempre promosso e valorizzato il lavoro suo e delle sue colleghe donne, essendo una voce imprescindibile nella storia del fumetto. Il suo contributo appunto è sia valso nel mondo del fumetto underground dove laddove non c'era spazio per le autrici femminili, lei e le sue compagne hanno creato nuovi spazi, che poi è una grande missione del femminismo, laddove non c'è qualcuno che ci dà voce, creare posti e luoghi virtuali dove, o meno, dove potersi esprimere. Questo è successo in diverse occasioni, con i di Take Me the Babe, una rivista femminista di cui Trina ha curato tutta la parte relativa ai comics, successivamente con Women's Comics, una raccolta di autrici donne appunto, che è continuata da lungo. Poi il contributo di Trina ha avuto delle incursioni anche nel fumetto più mainstream, con il suo lavoro su Wonder Woman, è stata la prima disegnatrice donna a disegnare Wonder Woman e ha valorizzato questo personaggio con diverse storie importantissime, per cui ricordo quella realizzata con Colleen Dover nel 98, The Once and the Future Story, che è una storia meravigliosa che vi consiglio di andarvi a leggere. Oltre il suo lavoro come sceneggiatrice, Trina Robbins ha dato un impulso importantissimo nella storiografia delle artiste americane, ed è un lavoro questo di racconto e di valorizzazione che continua tuttora a fare. Per il versante italiano abbiamo Silvia Ziche, un'autrice amatissima dal pubblico di tutta l'età, che ha esordito tra l'altro su, ricordiamo, su Topolino 30 anni fa, esattamente 30 anni fa ieri, quindi auguri, buon compleanno, con una storia in cui già si iniziava a indagare un po' quello che era il rapporto tra i generi. Ovviamente in uno stile assolutamente consono a quelli che sono i suoi spazi, ma anche qui abbiamo un lavoro importantissimo di creazione di voci nuove, del trattare temi femminili e femministi con un linguaggio assolutamente intelligente e libero anche da dogmi, che porta a farsi domande, a interrogarsi, a mettersi in discussione. Il suo personaggio di Lucrezia, che è stato pubblicato, ha una sua vignetta su una delle riviste femminili più importanti in Italia, Donna Moderna, però è anche protagonista di alcuni libri pubblicati da Feltrinelli Comics, di cui l'ultimo pubblicato nel 2019 è L'Allegra vita della quota rosa, in cui Lucrezia, che poi è un alter ego parossistico della stessa Silvia Ziche, si interroga e si confronta su cosa significa essere riparta una donna, un'artista donna o comunque una donna in questa società contemporanea. E le domande portano delle risposte su cui vale assolutamente la pena riflettere. Adesso non vi tolgo altro tempo, passo la parola a Susanna Raule, che appunto vi ho già presentato, ma ribadisco una scrittrice bravissima, un'attivista molto sensibile, una persona con quel piacere di condividere un'attività di attivismo femminista, nel fumetto, molto attenta, per cui mi sembrava assolutamente la scelta migliore per poter condurre questa conversazione così interessante. Ci sentiamo dopo, io interverrò alla fine. Grazie Francesca, grazie a tutti, grazie a Silvia, grazie a Trina per essere qua con noi. Dunque, praticamente la mia idea quando mi hanno chiesto di moderare questo incontro è stata questa, cioè invece di fare una retrospettiva storica che sarebbe molto utile, però come dire, rischiava di diventare un po' pesante, più adatta ad un saggio che non ad un incontro pubblico. Vorrei invece, come dire, parlare con voi di alcuni temi del fumetto al femminile. Il primo tema di cui vorrei parlare è la professionalità, cioè in che modo il ruolo delle fumettiste è cambiato nel tempo, sia dal punto di vista del potere contrattuale, sia dal punto di vista degli spazi e anche della libertà creativa. Comincerei con una domanda pertrina più specifica che è questa, dalle sue esperienze nell'underground negli anni tra gli anni 60 e 70, al lavoro con major come DC, di cui appunto parlava prima Francesca, fino all'elaborazione del ruolo storico delle donne nel fumetto e per finire con Friends on Lulu, che è un'iniziativa di cui spero ci parlerà. Com'è cambiata la tua professione negli anni? Innanzitutto quando ho cominciato a disegnare fumetti negli anni 60, la mia professione ero io e una serie di uomini. Io ero l'unica donna in quell'ambiente nel 69 e aggiunta a me un'altra donna, entrambe negli anni 70 vivevamo a San Francisco e era una specie di boys club, i maschi facevano, scrivano i fumetti e si includevano nei fumetti, ma non ci invitavano a scrivere i loro libri o raccolte. Questo è il motivo per cui, scusatemi... Questo è il motivo per cui... Hello, am I still there? Ci siete ancora? Grazie. Sì. 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 Sono intervenuti poteri forti? se abbiamo qualche problema di connessione vogliamo intanto magari se va magari intanto inizio a parlare con Silvia vediamo appunto se riusciamo a riavere Trina oppure siamo stati bloccati dal FBI Silvia tu mi senti vero? Sì sì ti sento Perfetto Silvia ti volevo parlare chiaramente dei tuoi esordi con Carpi e del lavoro come disegnatrice con Disney sempre appunto dal punto di vista della professionalità e dell'ambiente professionale in cui ti sei trovato mi sei trovata anche Ok sorry Scusatemi eccomi sono tornata vi volevo fare vedere questa vi volevo far vedere questa ho creato questo primissimo fumetto Ain't Me Baby A Baby nel 1970 a questo punto c'era Ian Welli vedete che aveva disegnato il retro della copertina e aveva utilizzato la prima pagina e ho dovuto trovare altre donne che potessero contribuire a questo volume ho trovato bravi artisti che ho chiesto loro di disegnare fumetti cosa che non avevo mai fatto prima è stata una cosa estremamente interessante due anni dopo anzi tre anni dopo però non mi giro perché altrimenti si stacca di nuovo la linea ci siamo incontrate all'inizio eravamo soltanto io e Willy dovevamo trovare le altre donne due anni dopo c'era un numero sufficiente di donne per cui dieci donne si potevano riunire e cercare di creare fumetti al femminile ci sono voluti tre anni per mettere insieme dieci fumettiste nella zona del San Francisco Bay Area di nuovo a voi adesso la parola ho finito la mia risposta grazie Trina appunto come stavo chiedendo a Silvia volevo fare qualche domanda sempre dal punto di vista della professionalità nel mondo del fumetto e di com'è cambiata nel corso del tempo dai suoi esordi con Carpi agli anni in cui lavorava disegnando vignette satiriche per comics, Quores, Memoranda eccetera fino all'esperienza come autrice completa con Lucrezia quindi qual era stata l'evoluzione dal punto di vista professionale per te? allora guarda mi scuso ma ti devo contraddire un attimo perché sono le cose che ci sono su wikipedia non so mettere a posto in realtà non ho cominciato con Carpi però vabbè non è importante nel senso che Carpi era l'autore che all'interno della Disney controllava i ragazzi che stavano cominciando all'epoca io in realtà ho cominciato come autrice completa perché la mia prima pubblicazione su una rivista a tiratura nazionale è stata Linus per cui diciamo che comunque ho cominciato scrivendomi anche i testi e poi sono due strade che ho portato avanti in parallelo quella di disegnatrice di storie avventurose per Disney di cui poi sono diventata anche autrice e invece un'altra strada, un altro filone che è stato quello di avventure più interiori diciamo che esteriori rispetto a quelle dei personaggi disneyani quindi io ho cominciato che ero molto giovane devo dire anche non avevo idea del fatto che il mondo del fumetto fosse un mondo maschile qui in Italia perché prima ero giovane semplicemente le avevo letti mi piacevano tantissimo io volevo fare fumetti mi piaceva disegnare mi piaceva inventare delle storie quindi lo volevo fare per fortuna nessuno mi ha detto che non era un lavoro per donne e quindi diciamo che un po' sono la dimostrazione che se non si dice a una bambina che quello non è un lavoro per lei lei lo fa tranquillamente anche se fosse cioè veramente una qualsiasi cosa quindi io non ho pensato che fosse un lavoro maschile e tra l'altro sono stata indotta in errore anche dal fatto che la redazione di Linus che è stata la prima a cui mi sono presentata all'epoca, sto parlando dell'86, era completamente femminile la direttrice era Fulvia Serra la redazione era tutta femminile poi che invece i collaboratori fossero tutti maschili quello non l'avevo notato però la redazione era tutta il femminile e poi da qualche anno mi ero innamorata completamente di un'autrice francese Claire Bretechet che è stata una grandissima autrice secondo me ha raccontato proprio l'animo delle persone in una maniera bellissima, incredibile ed è stato grazie a lei che io, allora l'amore per i fumetti in generale mi era nato veramente prestissimo con i personaggi di Topolino che guardavo quando ero proprio bimba mentre l'amore per un racconto proprio più, il racconto della vita interiore delle persone mi è arrivato con Claire Bretechet quindi diciamo anche il fatto che io ammirassi tantissimo questa autrice di cui avevo cercato tutti i fumetti mi aveva indotto a pensare che fare fumetti fosse un lavoro da donne diciamo che quindi sono arrivata fino ai miei esordi senza avere idea che fosse un lavoro maschile e poi diciamo qualcuno ci ha pensato a riportarmi alla realtà e quindi insomma dopo poco ho capito che mi ero infilata veramente in un mondo molto maschile diciamo che il fatto però di non essere mai stata indotta a pensare che fosse un lavoro solo per uomini mi ha portato ad essere una specie di schiacciasassi per cui mi sono ritrovata in ambienti maschili ma io volevo fare assolutamente quel lavoro ho trovato persone purtroppo devo dirlo che in qualche maniera hanno cercato di fermarmi perché sembrava più logico che una donna facesse la grafica o l'illustratrice e non i fumetti diciamo che sono stata più testarda io per fortuna e sono riuscita ad andare avanti come dicevo ho portato avanti entrambe le strade quella per Topolino perché a me piace comunque tantissimo il racconto a fumetti avventuroso cioè una cosa a cui non rinuncerei mai soprattutto poi dimenticavo di dirlo ma la cosa fondamentale delle storie delle cose che faccio è comunque l'umorismo per cui in Topolino nei personaggi di Topolino mi trovavo molto bene a raccontare avventure molto umoristiche e poi ho portato avanti l'altro filone diciamo che da quando sono stata cosciente del fatto che era un mondo molto maschile mi sono impegnata molto anche invece sui personaggi femminili in modo da portare avanti anche quello che era il mio punto di vista o il punto di vista di molte donne insomma che mi sono in qualche maniera impegnata a rappresentare con i miei personaggi poi non so se ci sono riuscita però insomma almeno ci ho provato quindi sì diciamo che la consapevolezza del fatto che fosse un mondo maschile mi ha portato comunque a concentrarmi molto su temi a me vicini dopodiché adesso ci sono molte molte ragazze che vogliono fare fumetti all'inizio anche come è capitato anche a Trina ero io da sola però essendo cresciuta in un mondo patriarcale quasi non me ne sono resa conto all'inizio cioè sembrava che fosse normale così poi per fortuna ho capito quindi diciamo che ho dovuto fare anche un'opera molto imponente di decostruzione di quello che mi era stato anche imposto impulcato durante la mia crescita in provincia per cui diciamo un ambiente non molto aperto diciamo così però insomma diciamo che poi ho capito bene adesso vedo che di ragazze ce ne sono tante sono molto contenta di lettrici ce ne sono tantissime e quindi sono molto contenta di questa cosa mi spiace solo un po' quando veniamo relegate in un ambito rosa cosa che mi fa odiare anche il colore rosa che poverino è un colore basta però sinceramente ho dei moti abbastanza di ripulsa nei suoi confronti perché è giustissimo che noi donne parliamo di noi donne ma non è solo quello come molto spesso purtroppo ci viene chiesto di fare cioè io vorrei che noi donne potessimo parlare assolutamente di tutto in modo che poi lettori e lettrici possano conoscere il nostro punto di vista sul mondo non il nostro punto di vista sulle donne quindi diciamo che adesso penso che siamo ancora in un periodo di transizione in qualche maniera dobbiamo raccontare molte cose di noi donne anche perché storicamente la storia è stata raccontata sempre dagli uomini dalla parte degli uomini quindi è giusto che noi raccontiamo le nostre storie dalla nostra parte e spero che ci stiano ad ascoltare anche per smetterla di dire che noi donne siamo un mistero perché se ci ascoltano magari poi non lo siamo più e quindi insomma però vorrei arrivare a un momento in cui noi donne possiamo raccontare le storie che vogliamo senza doverci in qualche maniera chiudere in un ambito femminile Grazie, sono molto d'accordo con quello che hai detto e mi scuso per la gaffa iniziale ma dappertutto No, ma figurati, è Wikipedia, guarda solo che... No, perché ho seguito il tuo lavoro però chiaramente non i tuoi esordi No, no, ma infatti troppo tempo fa Dunque, io passerei al secondo tema di cui volevo parlare con voi una domanda per entrambe ed è quella sulla dimensione politica cioè in parte Silvia ha già risposto cioè lavorare da donne in un mondo maschile dove ci sono determinate... che seguiva e segue tuttora come posso dire, determinate logiche secondo voi rende necessario comunque anche un approccio politico oltre che un approccio artistico? perché nella normalità dovrebbe essere un approccio artistico fine però la mia impressione è che dato quello che era e in parte ancora è l'ambiente del fumetto forse non sia, come dire, sufficiente l'approccio artistico è una domanda aperta potete anche contraddirmi, ecco comincerei con Trina I principali personaggi della mia storia sono sempre state donne e perché io sono una donna ed è quello con cui mi identifico dal momento che sono una donna i miei fumetti sono femministi sarebbe difficile per una donna fare un fumetto che non fosse femminista che non sia femminista quando io ho cominciato erano tutti uomini ed io, come ho detto prima quello che ha detto Silvia è stato interessato perché quando io ho cominciato non avevo la sensazione che ci fosse una differenza eravamo tutti persone che disegnavano fumetti ma negli anni 70 quando sono arrivata a San Francisco dove venivano realizzati e pubblicati tutti i fumetti underground vedevo che i maschi non mi invitavano a partecipare alle loro creazioni invitavano altri uomini ed è questo il motivo per cui ho fatto questo fumetto perché non c'era il fumetto per donne credo che il mio lavoro sia sempre stato politico semplicemente perché è un lavoro che riguarda le donne Silvia, che ne pensi? io sono perfettamente d'accordo ovviamente lavorare avere cominciato a lavorare in un mondo di uomini ci ha portato per forza di cose a fare un lavoro politico perché appunto dovevamo trovarci uno spazio e far sentire in qualche maniera la nostra voce anch'io mi sono trovata nella stessa situazione a sentirmi sempre purtroppo ancora un po' mi ci sento un po' marginale rispetto al gruppo degli autori è una cosa che mi dispiace tantissimo per cui anch'io penso che il mio lavoro debba essere politico per forza è che grandissime autrici, donne, alla fine non vengono celebrate come i grandi maestri del fumetto per esempio io ho nominato Claire de Teche che è mancata tra l'altro l'anno scorso io non ho avuto notizia di celebrazioni o di mostre si va bene è anche un brutto periodo questo però si fanno molte cose sul web come stiamo facendo anche noi adesso si organizzano comunque delle mostre possono essere anche virtuali possono essere articoli su riviste o qualcosa non ho visto una grande celebrazione questo succede molto spesso con le autrici donne mi sembra è un po' una cosa che è successa sempre alle donne in generale nella storia quando c'è qualche donna molto brava, molto motivata che riesce a fare qualcosa una volta che poi questa donna ha completato il suo passaggio la sua storia, la sua parabola il mondo si richiude un po' tipo palude e quello che lei è stata viene in qualche maniera dimenticato non viene considerato molto e questa è una sensazione molto forte che ho tra l'altro il mio essere femminista mi ha portato anche a fare degli studi storici abbastanza approfonditi perché io volevo capire perché siamo arrivati a questo punto perché le donne nella storia non ci sono e questa cosa appunto di questa sabbia mobile di questa palude che si richiude sopra le donne che hanno fatto qualcosa nella storia è assolutamente per me è veramente un problema gigantesco è un dolore enorme per cui credo appunto fermamente che il nostro lavoro sia politico anche per fare in modo che comunque le nostre idee il nostro percorso rimangano in qualche maniera poi c'è anche un discorso che c'è una cosa un po' complicata ognuna di noi che fa un pezzo di questo lavoro diventa un po' uno scalino su cui le altre autrici poi saliranno per andare oltre è una cosa difficile ma va fatta il problema è se questo scalino te lo tolgono come è successo con molte donne nella storia e qui voglio rimanere lì voglio che qualcuna possa poi continuare dal punto in cui io sono arrivata quindi sì, è decisamente un lavoro politico un altro tema di cui appunto che secondo me è interessante esplorare è il tema delle lettrici perché entrambi avete detto appunto le lettrici di fumetti un tempo erano anche rare cioè erano un po' bestie rare specialmente qua in Italia ancora quando io ero piccola le bambine leggevano appunto magari Topolino però poi crescendo non passavano a leggere fumetti d'adulti o anche non continuavano a leggere Topolino che poi è un fumetto anche per adulti come viene spesso detto che cosa è successo? cioè in che modo è cambiato l'ambiente secondo voi per le lettrici? nel senso che io ho l'impressione che da un lato per molto tempo siano state veramente targetizzate in modo molto brutale per cui c'erano fumetti per bambine e fumetti per bambini fumetti per maschi adulti e niente cioè nel senso perché tanto le donne adulte comunque i fumetti non li leggevano poi sono venuti fuori manga e abbiamo iniziato come dire si è aperto un mercato che ha almeno qua in Italia dato la possibilità agli editori anche di farsi una domanda dire ma perché i manga vengono comprati da donne, ragazze diciamo più grandi che noi non sapevamo di poter coinvolgere e quindi ecco secondo voi c'è una nuova generazione di lettrici che ha il potere di imporre delle sue tematiche sul mercato ora come ora oppure ancora non ci siamo? innanzitutto voglio fare un commento rispetto a quello che ha detto Silvia su Claire Betechet quando Claire è morta pensavo che ci sarebbe stata molta più pubblicità e pensavo che in Francia si sarebbe parlato molto di più invece no, non è stata così ed è stata una cosa estremamente deludente perché lei era così brava ed era così importante per quello che riguarda le lettrici negli anni 80 e 90 nell'industria del fumetto americano beh le ragazze, le donne non leggono i fumetti ed era la loro scusa per non pubblicare fumetti per donne e per ragazze ma se non gli date niente da leggere ovviamente non le leggono negli anni 90 l'immagina della donna nel fumetto americano era assolutamente un insulto la ragazza con magari vestiti molto stringati e magari col petto col seno grande perché una ragazza doveva volerli leggere? quando si è cominciato l'arrivo dei manga sui negozi americani all'improvviso le ragazze americane hanno trovato i fumetti che volevano leggere con altre ragazze che seguivano le avventure ed avevano nei principali librerie c'era la sezione con i fumetti e si trovavano tante ragazze sedute per terra a spavimento che leggevano il fumetto i manga e l'industria americana era alquanto conservatrice gli sono voluti altri dieci anni per rendersi conto che potevano realizzare fumetti per ragazze e che poi i fumetti potevano essere venduti e questo è quello che sta succedendo adesso nel settore questa è la combinazione con le graphic novels perché molte sono le donne, le autrici di graphic novels e non devi necessariamente disegnare il supereroe col pugno corto si possono creare delle storie bellissime e questo è il motivo per cui donne e ragazze li leggono ed è molto entusiasmante di nuovo a voi rispondo io allora sì, allora secondo me vabbè, ragionissimo Trina su tutto con i manga è cambiato veramente tantissimo e le ragazze hanno cominciato ad avvicinarsi ai fumetti prima semplicemente non venivano dati i fumetti alle ragazze perché, come ha detto anche Trina non erano cose per loro perché comunque fino a tempi recentissimi ma anche adesso se guardate i bambini in giro c'è una separazione netta tra quello che viene dato ai bambini e quello che viene dato alle bambine purtroppo c'è ancora, non per tutti ma è così, lo si vede soprattutto anche sui colori dominanti l'azzurro, comunque con l'azzurro verde per i bambini rosso, rosa per le bambine questo succede ancora tanto non è provato che le bambine per forza di cose debbano andare verso il rosa e i bambini verso l'azzurro quindi diciamo che è una cosa che viene imposta e anche, e questo succede anche con i giocattoli o con le letture quindi diciamo semplicemente prima le bambine non venivano dati i fumetti io infatti sono grata comunque ai miei genitori che mi hanno dato topolino in tempi in cui evidentemente ero l'unica a scuola che leggeva i fumetti tra le mie amichette mi guardavano strana perché insomma ero quella strana alla fine invece con i manga le ragazze si sono avvicinate ai fumetti ed è successa questa cosa strana cioè i tempi coincidono quindi la cosa è veramente una conseguenza l'una dell'altra quando hanno cominciato a leggere i fumetti poi hanno cominciato anche a volerli fare e quindi si è creato una non voglio dire mercato che è una parola che veramente odio ma si è creato uno spazio enorme per le ragazze che volevano leggere e anche fare disegnare i fumetti, raccontare delle storie e questo lo stiamo vedendo adesso più ragazze leggono i fumetti più ragazze vogliono disegnarli vogliono scriverli vogliono farli vogliono raccontare le loro storie e vogliono uscire anche da questi luoghi comuni che si ritrovano spesso in quelli che erano i fumetti per i maschi appunto il supereroe cioè il ragazzino sfigato che poi invece c'ha i superpoteri e diventa il supereroe mi sembra una cosa molto maschile forse almeno noto che spero di non sbagliarmi ma noto che nei racconti di donne non si trova molto spesso questo tipo di storie insomma la necessità di avere per forza un'identità segreta per potersi realizzare credo che il fatto che siano arrivate tante donne nel mondo dei fumetti abbia portato anche a storie più complesse cioè a realizzare delle trame più complicate Petrina parlava di graphic novel appunto cioè si è finalmente capito che con i fumetti si potevano raccontare storie anche molto molto complesse molto intime molto tristi o molto divertenti comunque diciamo che il fumetto non è un mezzo per un racconto semplice è semplicemente un mezzo per raccontare e con questo si può fare assolutamente di tutto credo che comunque il fatto che siano arrivate molte donne nel mondo dei fumetti abbia portato ad allargare un po' gli orizzonti del racconto che viene fatto con i fumetti Assolutamente secondo me il fatto che ci siano più lettrici donne più autrici donne ha veramente aumentato la complessità delle narrazioni perché è stato introdotto un altro punto di vista che prima esisteva solo in modo teorico perché poi come dire se la cantavano e se la suonavano tra autori e lettori e così via per cui c'è stato un aumento della complessità secondo me forse poi anche dovuto al tempo all'evoluzione del medium insomma ci possono essere tanti motivi però questo può essere uno dei motivi un altro tema di cui volevo parlare con voi era il clima praticamente dell'ambiente cioè a seconda del periodo e del contesto in cui vi siete trovate a lavorare in che modo il fumetto praticamente è cambiato dal punto di vista proprio delle relazioni anche di quanto era facile stare nell'ambiente è diventato più facile in che modo è cambiato e quanto peso ha ancora secondo voi il sessismo il retaggio diciamo della società patriarcale nel mondo del fumetto tutt'oggi in America in America è ancora il club dei maschi non è così pessima la situazione come lo era in passato ci sono molti ragazzi che sono interessati e che vogliono lavorare con le donne che sono femministe ma quelli più grandi che sono sempre stati nel club dei ragazzi continueranno a starci io lavoro a casa e tutti quanti sanno chi sono e sono una femminista questa cosa a me non arriva ma per esempio un'amica che lavora in uno studio con tutti i maschi e fanno animazione lei mi racconta che è l'unica donna e questi tutti riferimenti sessuali che la rendono molto nervosa la fanno stare a disagio e la cosa buffa non è buffa non è divertente che René che era stata una fumettista negli anni 40 all'epoca dollaro parlava del fatto che quando lei lavorava in uno studio con una serie di altri fumettissi con questo editore lei era l'unica donna come succedessero le stesse cose negli anni 40 con tutti questi riferimenti sessuali in cui raccontavano le barzellette o le battute sporche e lei era l'unica donna e questo la rendeva molto infelice e c'erano i momenti in cui lei piangeva tornando a casa cosa che non è cambiata succedeva negli anni 40 e continua a succedere anche adesso di nuovo a voi allora sì è vero anch'io mi sono trovata in situazioni un po' imbarazzanti diciamo che il mondo è cambiato non solo il mondo del fumetto per fortuna è cambiato il mondo vabbè in questo senso Me Too ha fatto tantissimo però le cose erano già in fase di cambiamento comunque all'inizio del mio lavoro anch'io mi sono trovata sempre unica donna in un gruppo di maschi che effettivamente facevano apprezzamenti pesanti e la cosa era veramente fastidiosa però per come eravamo state educate noi per come io ma noi le ragazze della mia generazione per come eravamo state educate non eravamo abituate a reagire cosa che invece adesso si fa assolutamente quindi tendevamo a rimanerci male e a diciamo a tenerci dentro questa cosa a cercare di andare avanti lo stesso adesso per fortuna le ragazze sanno che non è questo il modo di comportarsi che si può reagire noi all'epoca non lo sapevamo è una cosa molto bella che ho sentito dire da da Tina Fey che appunto serve molto anche per cercare di eliminare questa sensazione di essere l'unica è bruttissimo essere l'unica donna nel gruppo ed è bruttissimo anche che io e noi della nostra generazione forse prima non ci rendessimo conto della stranezza di questa di questa situazione perché abituate a vivere e a lottare in un mondo di maschi Tina Fey ha detto giusto ha chiamato questa cosa alla sindrome della macchina del cappuccino e succede infatti quando in un gruppo di uomini c'è una donna e di solito succede che se chiedi a un gruppo di uomini come lei dice sì sì no ma noi ce l'abbiamo già una donna c'è la macchina del cappuccino no c'è ce l'abbiamo e basta e quindi diciamo questa cosa si tende a essere come la giustificazione perché non vengano inserite altre donne nel gruppo perché se una chiede ma perché non posso dire no ma ce l'abbiamo già ce l'abbiamo già quindi insomma invece noi dobbiamo fare in modo che non esista più questa cosa non siamo la macchina del cappuccino non basta una donna in un gruppo dobbiamo fare in modo sempre che ce ne siano tante quindi diciamo questa è la prima cosa per cercare di cambiare ulteriormente le cose poi diciamo nel tempo in cui ho lavorato le cose sono cambiate ulteriormente però un'altra cosa e qui tiro in mezzo un'altra sindrome che mi diverte molto che è quella di Ginger Rogers che è una cosa che anche qui sarete tutti d'accordo che dobbiamo fare questa cosa allora la sindrome di Ginger Rogers è che noi dobbiamo saper fare esattamente tutte le stesse cose che fa Fred Astaire però all'indietro e sui tacchi ovvero diventa una cosa difficilissima quindi insomma anche questa è un'altra cosa che abbiamo dovuto fare cioè lavorare il triplo rispetto ai nostri colleghi maschi per riuscire a fare quello che invece loro facevano molto facilmente appunto come Fred Astaire andando in avanti mentre noi con un sacco di difficoltà in più quindi diciamo una volta superato il fatto di non essere la macchina del cappuccino di non essere Ginger Rogers forse possiamo adesso possiamo cercare di passare di passare un po' avanti insomma di fare anche gruppo per forza di cose perché fare anche gruppo non per farci il recinto cioè per essere donne che parlano di donne fare gruppo per essere un gruppo di persone autori per esempio parlando di noi stiamo parlando di fumetti autori e autrici che raccontino storie che parlino di tutto e di tutti ognuno dal suo punto di vista e questo servirebbe molto finalmente a riuscire a capirci perché è molto utile tra l'altro continuare non è giusto che le donne parlino solo di donne gli uomini solo di uomini perché è giusto sentire il racconto degli altri per vedere anche a che punto è arrivata la percezione del cambiamento perché ci sono un sacco di cose che ci fanno percepire che le cose non sono cambiate assolutamente ma dico l'ultima che mi viene in mente ieri a un ospedale vicino a Milano avevano distribuito un fogliettino alle persone che andavano a farsi la visita per il covid con delle istruzioni un questionario con delle domande e c'erano le domande solo per le donne c'era proprio scritto solo per donne che erano quelle che riguardavano la cucina la cura della casa e tutte queste cose ora se in pieno 2021 riescono a esistere esistono ancora queste cose vuol dire che i problemi ci sono ancora e ce ne sono tanti quindi diciamo che credo che dovremmo fare in modo di raccontare queste cose raccontare il nostro punto di vista e però lasciare anche che gli autori uomini raccontino il loro punto di vista raccontino i personaggi femminili perché questo servirà anche a noi a capire se veramente il cambiamento è in atto se sta arrivando e quindi diciamo quanto dovremo lavorare ancora per ottenere qualcosa quando inizieranno a saper disegnare le tette delle donne in modo normale non tipo qua non ce la faranno mai sarà un primo passo avanti queste le cose che mi avete detto mi portano a una riflessione che non faceva parte delle domande insomma che avevamo concordato però è un tema che mi sta molto a cuore ed è il tema della forza delle donne cioè secondo me quello che io ho visto nel corso degli anni sono a livello di donne che lavorano nel mondo del fumetto ma anche di donne che lavorano in tutti gli elementi in tutti gli ambienti professionali con una forte connotazione maschile è che sono enormemente forti cioè ce la fanno riescono quelle che in qualche modo hanno una forza di sfondamento pazzesca per riuscire in qualche modo a superare le difficoltà iniziali che gli vengono poste nell'ambiente quando poi riescono a fare questo allora poi si trovano ad avere a che fare con tutta una serie di altre problematiche però più sottili come dire meno visibili e quello a cui io sto pensando da tanto tempo è ma come sarebbe bello se finalmente riuscissimo a fare un pochettino di spazio anche per quelle non super forti non come dire sempre con il coltello tra i denti e così via secondo voi si stanno aprendo questi spazi o è ancora così difficile riuscire ad entrare in un ambiente maschile come quello del fumetto è molto più facile adesso di quanto non lo fosse in passato sarà comunque sempre rilanciato sono siamo fortunati che non ci vogliono uccidere perché sappiamo che cosa succede e cosa successe per esempio l'omicidio di cinque donne asiatiche in Georgia in America ce ne sono di uomini così ma nell'unione sta la forza e ci sono tantissime donne in questo ambiente che creano fumetti li scrivono li disegnano è talmente tanto aumentato il loro numero non siamo più sole e forse quelle che tra di noi sono entrate per prime dovevano essere forti io non sapevo non sapevo di essere forte mi sono solo arrabbiata perché non ero inclusa ho detto ok lo faccio uguale oggi non è necessario più essere così forti basta avere talento e ci sono tantissime donne di talento in giro quindi ora la situazione secondo me è di credita migliore la parola a voi allora sì io sono d'accordissimo anche con Susanna effettivamente la parità si avrà solamente quando anche le donne mediocre avranno le stesse possibilità degli uomini mediocre ora non succede ancora c'è molto più spazio però siamo ancora obbligate a lavorare molto di più però le cose vanno molto meglio io penso che siamo solamente in una fase di transizione perché come dicevo prima mi sono fatti i miei studi storici per capire quali erano proprio le origini del problema perché un conto è sapere vedere provare un disagio enorme in un mondo in cui non ci vengono riconosciute le stesse possibilità dei maschi però quello che mi incuriosiva era capire perché questa cosa era successa e a donne indietro nella storia appunto non si trovano le donne o se ne trovano pochissime quelle pochissime erano donne veramente straordinarie ora non è cioè questa cosa deve finire sinceramente nel senso che ci deve essere posto posto per tutti una donna non deve essere per forza straordinaria per trovarsi un posto nel mondo mica dico per fare chissà che cosa proprio per avere il suo posto per poter avere le stesse possibilità che ha un uomo e quindi diciamo che sì io sono dell'idea che siamo appunto in un momento di transizione molto moltissimo fa l'autostima nel senso che ecco per quello dobbiamo fare gruppo come dice come dice Trina dobbiamo fare gruppo dobbiamo fare gruppo prima per essere più forti in qualche maniera per spalleggiarci per essere più consapevoli delle nostre possibilità perché ce le abbiamo solo che proprio qui torno al discorso dell'educazione che ci ha fatto molto molto male se noi siamo abituate diciamo a fare un passo indietro a non essere motivate come come gli uomini a non essere a non avere delle ambizioni ecco noi siamo state cresciute per non avere per non avere delle ambizioni per lasciare sempre spazio al fratello al marito all'uomo all'uomo di turno ecco questo non è giusto noi dobbiamo essere libere di avere delle ambizioni di voler fare qualcosa della nostra vita e di noi stesse dopodiché se abbiamo questa possibilità il problema a quel punto è una sfida con noi stesse però la possibilità ce la dobbiamo avere e la possibilità di dimostrare se siamo in grado e poi sta a noi poterlo fare e quindi io direi che appunto siamo in fase di passaggio e questo passaggio però si vedrà nelle prossime generazioni si vedrà grazie allo sforzo che faremo anche per far crescere le bambine di adesso le bambine che nasceranno con una maggiore consapevolezza di se stessa credo che la parola sia consapevolezza perché se ce l'abbiamo noi la consapevolezza se ci facciamo forza le une con le altre alla fine questa consapevolezza per forza ce la dovranno avere anche gli uomini quindi diciamo che per l'ennesima volta siamo costretti a fare più fatica e a farla noi poi le cose le cose cambieranno gli uomini seguiranno perché tanti sono già bravissime persone ci aiutano ci spalleggiano ci seguono sono femministi ma tanti no siamo anche penso che sia successo a tutte siamo perseguitate da questo sessismo benevolo del cavaliere che ti vuole cedere il passo che ti vuole portare i pacchi che è una cosa terribile perché il sessismo benevolo è semplicemente la parte bella della medaglia poi c'è se tu non stai al tuo posto però cominciano i problemi ecco questa cosa è ancora molto presente quindi purtroppo con gli uomini che già hanno capito il problema perché anche il fatto che lo capiscano finalmente è importante comunque insieme agli uomini che già hanno capito il problema e noi donne insieme dobbiamo fare in modo dobbiamo avere più consapevolezza e fare in modo che questa cosa si proprio diventi una cosa comune diventi una cosa di tutti la mia ultima domanda infatti è proprio su questo sul presente sul futuro quindi come vedete i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni sia sulla accresciuta consapevolezza del ruolo femminile che indubbiamente c'è stata e anche un altro fenomeno che è invece meno benevolo in qualche modo che è quello del pink washing rainbow washing che sempre di più si sta come dire diffondendo nel bene nel male ecco secondo me non troppo nel bene però su questo poi appunto lascio che siate voi ad elaborare alla luce di tutto questo che percorso vedete davanti secondo voi che percorso hanno le autrici che si approcciano avranno le autrici che si approcciano adesso al mondo del fumetto Susanna mi spieghi cos'è il pink washing il rainbow washing sì assolutamente è un fenomeno che sta prendendo molto piede a livello di produzioni mainstream sia fumettistiche cinematografiche in cui praticamente viene inserito forzosamente un punto di vista femminile un punto di vista queer per esempio per cui inserendo personaggi che strizzano l'occhio al al femminismo pur essendo poi in realtà magari portatori di stereotipi o anche quando invece sono personaggi come dire effettivamente di matrice femminista questo viene fatto con l'unico scopo di blandire l'audience femminile o l'audience queer di quel determinato programma o di quella determinata testata fumetti ok adesso ho capito credo che innanzitutto sia meglio di niente è meglio di quei giorni in cui la donna era semplicemente la fidanzata o la moglie ovviamente però bisogna andare oltre questa cosa ma credo che sia comunque un passo nella giusta direzione quindi io ho il problema col pink wash in realtà non ce l'ho e l'altra domanda qual era? volevo sentire un commento da Francesca Francesca è stata qui ad ascoltare soltanto ma è rimasta silenziosa non ha detto nulla qual è stata l'altra domanda Susanna? l'altra domanda era su come vedevi il percorso davanti a una fumettista un'autrice che inizia ora a lavorare come come pensi che siano cambiate le cose sono cambiate tantissime è il percorso migliora di giorno in giorno come ho detto prima se non altro in America sono c'è un numero di fumettiste in assoluto il più elevato rispetto al passate e per 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 non andiamoci a preoccupare degli uomini e io sono d'accordo con quello che ha detto Silvia e però vorreo sentire Francesca cosa ha da dire Francesca a riguardo io vorrei sentire Silvia poi dopo che finite vi dico tutto quello che penso a riguardo perché sto pensando tante tante cose sono molto contenta di questo anche di questo invito perché effettivamente mi prendeva qualche minuto per commentare non vedo l'ora però prima lascio la parola a Silvia grazie ok allora grazie dunque diciamo che il pink washing inteso come cosa proprio di marketing già ho detto la parola marketing o mercato mi fa venire delle cose strane per cui è una cosa che insomma allora sì è giusto che io ho un sentimento contrastante contraddittorio nel senso che trovo bello che ci siano un sacco di film serie televisive cose romanzi che abbiano protagonisti femminili diciamo che mi infastidisce quando la protagonista femminile è un uomo con la faccia di una donna cioè se non ha veramente nessuna caratteristica femminile veramente femminile è spesso il caso delle ispettrici di polizia dei gialli scritti da uomini le trovo semplicemente la versione femminile dell'investigatore insomma non vedo non vedo delle grandi differenze così anche nei film spesso l'eroina è una donna ma è veramente una donna a me sembra semplice che se quella parte potrebbe essere stata interpretata tranquillamente da un uomo senza modificare alcun che ecco lì c'è qualcosa che non funziona secondo me quello non è esattamente un personaggio femminile ma è un'operazione di marketing questo lo trovo tutto sommato normale nel senso che come dicevo prima le donne nella storia e anche nella letteratura e nell'arte non esistevano o esistevano in parte infinitesimale però gli uomini hanno sempre raccontato le donne ed è semplicemente questa cosa che continua ad accadere ora per noi donne che siamo anche curiose è molto importante questa cosa perché riusciamo come dicevo prima a sentire un po' qual è la temperatura della situazione cioè a che punto siamo arrivati credo che sia stato molto importante per noi anche per prendere coscienza di noi stesse il non riconoscersi in molti personaggi femminili raccontati da uomini io ci ho messo tanto a capire perché alcune alcune storie parlo di romanzi di film mi lasciavano una sensazione di disagio ci ho messo tantissimo a capire perché quando quando l'ho capito di solito questo disagio mi viene se il personaggio femminile di cui ho appena letto di cui ho appena visto la storia non sembra una donna oppure è un personaggio talmente lontano da me in cui non riconosco assolutamente nulla che potrebbe in qualche maniera coinvolgermi coinvolgere la mia sensibilità ecco a quel punto rimango un po' a disagio io direi che questo può solo servirci per cercare di cambiare un po' la narrazione in corso dopodiché sulle autrici che cominceranno adesso secondo me avranno molto spazio perché come ho continuato a dire siamo in un periodo di transizione arriverà un momento in cui alle donne finalmente non sarà più chiesto di raccontare solo storie di donne allora potremmo raccontare veramente come vediamo il mondo non come vediamo noi stesse che lo sappiamo benissimo come ci vediamo potremmo raccontare come vediamo il mondo e questo credo che sarà utile per tutti soprattutto quando finalmente nessuno valuterà il nostro lavoro perché siamo una donna o perché siamo una persona trans o perché siamo una persona gay cioè quando nessuno giudicherà più il nostro lavoro per quello che siamo per il nostro orientamento sessuale per le nostre scelte di vita ecco a quel punto avremmo fatto veramente un sacco di passi avanti io spero in quello vi ringrazio davvero moltissimo per il tempo che ci avete concesso e per questa bella discussione adesso passerei la parola a Francesca che anche io sono molto curiosa di sapere quali sono le tue riflessioni innanzitutto vi ringrazio davvero per i vostri interventi perché è stato tanto tanto bello sentirvi quanto anche illuminante rispetto alla fase attuale in cui siamo in cui stiamo operando diciamo noi che ci affacciamo a questo ambiente da relativamente poco tempo parlo per me la mia generazione anche se non sono propriamente un artista però mi interessa di fumetto e osservare come nonostante i tantissimi passi fatti negli ultimi anni negli ultimi decenni ancora a volte si ha l'impressione che il mondo del fumetto sia una grande festa maschile a cui puoi partecipare solo se invitata e a determinate condizioni ecco questa è una sensazione che ho sentito molto forte nel tempo e che sicuramente il contributo collettivo perché poi appunto Wonder Woman aveva la fortuna di avere una divinità quasi e quindi lei poteva noi possiamo tutti insieme la dimensione collettiva è una dimensione importantissima in questo senso ed è importante conoscere quella che è la storia del movimento prima di questi anni così anche difficili da decifrare da un punto di vista politico per il femminismo perché il mitù è stato importantissimo però ha anche generato una confusione mediatica sul modo di raccontare anche i ruoli professionali e non delle donne nella società attuale e nell'arte quindi responsabilità da lettrici da artiste secondo me è anche quello di creare di creare una narrazione che sia pulita che sia onesta che sia combattiva nel senso migliore del termine e le operazioni come quella che stiamo facendo e come quella che abbiamo insieme inaugurato oggi potrebbe assolutamente essere un un tassetto importante in questo tipo di di narrazione che nasce dal confronto e dal e da voci di persone che si raccontano e che riflettono insieme perché poi di fatto la lotta nei fumetti ha una connozione forse più action più interessante nella vita attuale la lotta è fatta soprattutto di parole di azioni di coraggio di fatica anche di lavoro e quindi grazie grazie davvero perché oggi abbiamo lavorato insieme in questa direzione e invito tra l'altro voglio anche rimandare ai prossimi appuntamenti in cui questo percorso proseguirà e precisamente inizio al 25 marzo settimana prossima in cui un incontro è organizzato dall'ambasciata americana a Roma in cui interverrà Kim Manson la curatrice della mostra New Yorkese Women in Comics che stiamo portando insieme a Trina curatrice che stiamo portando a Roma e ci saremo nuovamente ci sarò nuovamente io e Rita Petruccioli che stiamo le curatrici del progetto per ARF e quindi 25 marzo alle 4 in inglese sulla pagina facebook dell'ambasciata USA in italiano sul canale youtube quindi potrete seguirli tutti quanti il secondo incontro di Women in Comics andrà a parlare del corpo della sua rappresentazione che è un tema che abbiamo già un po' accennato oggi ne abbiamo già parlato è un tema centrale anche della storia delle donne del fumetto da lettrici da artiste e da personaggi perché poi i personaggi femminili sono stati trattati in maniera un po' ondivaga nel tempo soprattutto quelli mainstream che hanno avuto tanti scrittori tanti disegnatori e non sempre tutti li hanno amati diciamo così i personaggi femminili e del corpo parleremo con Sara per l'Italia con Sara Pichelli e per l'America con Emil Ferris e Colin Doran quindi io vi invito a tornare con noi il 25 marzo poi il 15 aprile e poi il calendario degli eventi di Women in Comics è comunque pubblico e lo trovate sui nostri canali social io vi ringrazio nuovamente ringrazio Trina ringrazio Silvia e ringrazio Susanna e tutti quelli che ci stanno ascoltando e vi saluto e leggete tanti fumetti e ci vediamo ci vediamo prestissimo a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti.